amici di regno fm questa sera ci è venuto a trovare un amico vincenzo d'amico manco parla apposta e io ho in mano una decina di volumi bene questi volumi sono non sono altro che le pubblicazioni che ha curato vincenzo d'amico per conto della casa editrice ripostes che parlano della del nostro territorio del sud del meridione del regno di napoli del regno delle due sicilie vincenzo infatti da qualche anno è fortemente impegnato in prima persona alla ristampa di tutti quei volumi che contengono informazioni preziosissime storiche che non si trovano normalmente sui libri e nelle librerie d'italia pro domomea fratelli bandiera risorgimento senza eroi viva il re a basso alla nazione la dinastia borbonica vincenzo buonasera buonasera bene complimenti intanto per la passione per l'impegno in questa opera importantissima di divulgazione storica della verità storica che ci appartiene com'è nata questa passione è nata perché come tutti ho sempre avuto dei forti dubbi sulla versione come dire a geografica del risorgimento perché avevo un vecchio libro di di ad uso in un liceo degli anni 40 in cui si sosteneva che garibaldi aveva liberato napoli dallo straniero napoli dai borboni questi cafoni perché parlavano in napoletano allora mi chiedevo ma se erano stranieri parlavano in napoletano mi pare strano come mi pare strano che uno nato a inizia venisse a potesse essere nazionale dalle nostre parti quindi già già fin da piccolo dei dubbi la svolta è stata quando per casa su una bancarella di napoli ho trovato il libro del grande nicola zitara a memoria di quando ero italiano e le sue i suoi dubbi erano anche i miei dubbi benché siamo di due regioni diverse di ci separarono 50 anni così o grazie ad internet con cominciato ad approfondire a cercare a trovare tra vari siti dei libri ormai condannati all'oblio semi sconosciuto che ho cominciato a pubblicare il primo è stato proprio questo prodomomea dicembre 2009 solo in fondo poco più di due anni fa mi sembra una vita fa e da questo libro scritto in anonimo da un avvocato più probabilmente da un magistrato abbiamo poi avuto tanti altri libri che tu hai parzialmente citato si vedo anche un tre volumi dal titolo cronaca civile militare delle due sicilie sono tre tomi sì questo è l'opera di monsignor del puzzo conosciuta solo da alcuni esperti bibliofili ormai rara conservata in poche biblioteche che noi abbiamo fatto ripubblicare stampandola in tre tomi per facilitarne la lettura i primi due tomi che vanno dal primo gennaio del 1734 quanto quando filippo quinto e sabetta farnese cominciano le manovre per riconquistare il regno agli austriaci e finisce l'8 novembre del 1857 anniversario del 27esimo dell'incoronazione di fendinando secondo di borbone lì termina l'anastatica poi il dottor catenacci insieme al dottor di giovine che sono stati curatori di questa opera hanno voluto come dire completarla aggiornarla fino alla caduta del regno che come sappiamo è avvenuta il 20 marzo del 1861 con la resa di civitella del tronto così in questi in questa opera c'è giorno per giorno tutto il regno delle due sicilie durante il periodo borbonico c'è anche un albero genealogico delle volte di copertina a colori che provengono dallo sterminato archivio catenacci arricchito anche da medaglie e quindi sicuramente un'opera che merita di stare in qualsiasi nella biblioteca di un meridionale di uno studioso attento delle vicende del mezzogiorno d'italia o cosa che magari non tutti sanno ma che è altrettanto importante come la presenza del nostro illustre ospite e che vincenzo a creare un vero e proprio spazio sul web un portale che si chiama emporio 2 sicilie lo trovate ad esempio andando tra le altre cose anche su ebay e in questo spazio su questo suo portale è possibile acquistare tutta la produzione di riposte se quindi tutti i libri tra gli altri che sono dedicati appunto alla storia del nostro territorio prima dell'occupazione dei piemontesi non solo ovviamente i titoli della casa editrice riposte con cui collaboro ma anche delle altre case editrici meridionali e non che si occupano del risorgimento visto dalla parte dei sconfitti ma non solo ci sono anche come dire testi classici perché è giusto comunque dare spazio a tutti e vedere sempre la realtà a 360 gradi per non cadere negli stessi errori in cui siamo stati costretti da coloro i quali hanno osodire colonizzato anche soprattutto dal punto di vista culturale la nostra terra perché quando c'è una guerra c'è sempre la lotta tra due propagande poi la propaganda dei vincitori diventa storia e nel nostro caso la versione dei vinti che poi confrontata con i documenti ed altri dati economici sembra un esame più accurata più oggettiva è caduta nel dimenticatoio e quindi abbiamo cercato di riportare in auge ecco dal dal lato della tua esperienza come si sta evolvendo l'interesse e l'approccio alla storia da parte poi dei fruitori degli italiani dei meridionali degli interessati alla conoscenza vera del della della nostra storia di quello che è accaduto e delle condizioni in cui si viveva appunto prima del 1860 nel regno di napoli e delle due sicilie sicuramente cambiato il punto di vista si cerca di capire meglio il presente approfondendo il passato e quindi ci si in medesima di più in quello che era che è stato definito in modo sprezzante lo stato borbonico sempre l'aggettivo borbonico per non utilizzare appunto per quasi nascondere che questo in realtà era uno stato sovrano da da 700 anni perché la fondazione risale al 1130 e quindi uno stato che aveva il diritto di esistere di non essere invaso da bande di oggi si direbbe di terroristi mi riferisco ai garibaldini e da uno stato formalmente alleato quale quello del piemonte quindi si 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 inizia a non è più garibaldi l'eroe popolare ma inizia ad esserlo crocco piuttosto che il sergente romano oppure perché no ferdinando secondo e tutti gli altri sovrani delle due sicilie secondo te non per usare delle frasi fatte ma si dice sempre conoscere la storia per capire il presente per guardare al futuro secondo te quanto c'è di vero in questa frase in relazione al regno di napoli e all'unità d'italia come sempre può sembrare scontata nella pure semplice verità perché conoscendo il passato intanto capiamo chi siamo e da dove veniamo e questo è fondamentale anche per costruire il nostro futuro ci si rende conto che come dire la disoccupazione endemica della quale siamo vittime ha una sua origine ben precisa e scaturisce da scelte altrettanto ben precise dello stato italiano che ha trattato appunto le cosiddette province napoletane come le chiamavano all'epoca o il sud o terronio come volete come appunto una colonia pertanto la colonna come ha detto pino aprile 600 la questione meridionale in 150 anni non è voluta non l'hanno voluta risolvere altrimenti la germania in vent'anni il gap tra est e ovest non non è come dire non è finito però quasi quindi evidentemente a qualcuno conviene che ci sia questo stato di fatto ma non non conviene sicuramente al cittadino medio dell'italia settentrionale per carità conviene conveniva soprattutto in passato al alle classi come dire agli industriali del nord che avevano mercato di consumo avevano proletariato esterno cioè braccia a buon mercato senza ricorrere a quelle del terzo mondo come adesso sta avvenendo e avevano anche i nostri politici purtroppo l'occasione grazie al clientelismo di poter essere aletti non in base al bene comune che facevano per noi ma in base ai posti e tutte queste altre cose insomma di stampo quasi mafiosi diciamolo passiamo un discorso attuale quindi secondo te la repubblica italiana che ha ereditato i mali della condizione imposta con violenza dal regno d'italia ha cambiato l'atteggiamento nei confronti del sud no purtroppo no e basta voglio dire guardarsi intorno adesso c'è la forte polemica intorno alla costruzione della tav non entro nel merito mi riferisco ovviamente a la linea ferroviaria che devono fare lì in piemonte però la salerno reggio calabria è lì da decenni che viene mai finita la transiberiana ci misero meno tempo per costruirla mi sembra strano parliamo di una strada però c'è tutto un discorso da fare sulle ferrovie oppure sul famigerato ponte sullo stretto che vorrebbero costruire però mancano le autostrade si può dire sia in sicilia che in calabria quindi non si capisce a che servirebbe se non che a ingrassare l'impregilo che vi ricordo è anche implicata nella vicenda dei rifiuti nel napoletano e mi sembra anche qui in puglia a manfredonia quindi andiamoci piano vincenzo rivolgiamo ricordare dieci primati quelli più importanti che ti vengono subito in mente del seguiti nel regno di napoli non è non è difficile dire non ho molta come dire simpatia per per i primati e ti spiego perché sembrerebbe quasi la classifica del campionato di calcio ma non fa niente perché qualcuno potrebbe dire vabbè avevamo i primati pertanto siamo stati come dire sfortunati ad essere stati occupati ma non è così perché il nostro regno poteva anche essere lo stato più disgraziato d'europa comunque aveva il diritto di esistere perché altrimenti in base a questa logica nel 41 la germania era senz'altro più avanzata della dell'unione sovietica quindi i russi dovevano farsi invadere ma chiaramente non è un concetto come dire serio io dico che l'unico vero primato è la sovranità cioè noi fino al 1860 avevamo uno stato nostro che bene o male per carità ogni fenomeno umano è sempre perfettibile cercava di fare i nostri interessi da quella data in poi purtroppo lo stato italiano ha fatto per lo più gli interessi del cosiddetto triangolo industriale o comunque si è guardato bene da fare gli interessi del mezzogiorno d'italia altrimenti dobbiamo dire che ha ragione lombroso e che quindi essendo noi una razza inferiore non riusciamo a governarci bene a vivere civilmente tra virgolette tu che oggi svolgi la tua attività sostanzialmente attraverso l'uso di internet come vedi l'uso di questa nuova tecnologia per lo sviluppo e l'espansione diciamo la divulgazione della verità storica io lo dico e ti ricordo anche e ricordo anche ai nostri telespettatori che tu sei stato uno dei primi a mettere su youtube dei video che riguardavano appunto il regno di napoli si youtube punto it slash sicilie è fondamentale fondamentale perché la televisione è fatta in un modo che c'è qualcuno che parla e chi sta a casa deve ascoltare anche se la facoltà di cambiare canale poi sappiamo bene che alcuni canali giustamente determinano fanno opinione più di altri è fondamentale perché si può comunicare con più facilità si trovano documenti molto molto rari basta in fondo andare su google esce fuori di tutto gli stessi video il mio primo video risale al 2005 poi per fortuna tante altre persone mi hanno seguito facendo anche cose più belle di me hanno una grande importanza magari chi chi non se la sente di leggere o magari torna a casa dal lavoro stanco mette un video e inizia a pensare perché quello che conta è far nascere il dubbio nella mente delle persone vincenzo in conclusione di questa nostra interessante chiacchierata vogliamo ricordare a chi ha il desiderio la voglia di contattarti per entrare in possesso delle pubblicazioni che riguardano il regno di napoli e delle due sicilie come come si fa per contattarsi come abbiamo detto prima vabbè bastere basta andare su facebook e cercare vincenzo d'amico è il modo più semplice mi mandate un messaggio oppure andate su google e cercate tutto attaccato a emporio due sicilie e uscire il mio negozio ebay oppure vabbè uscirebbe il cellulare bene noi ti sappiamo ascoltatore di regno fm molto bella perché dà l'opportunità di di riascoltare alcune canzoni della nostra tradizione che magari sono dimenticate o quasi quindi si può dire che dal punto di vista musicale che altrettanto se non più importante di quello bibliografico fate come dire il mio lavoro voi sicuramente molto meglio di me ecco grazie per essere stati qui con noi è un saluto e alla prossima intervista grazie a voi